salve amici del canale spero di trovarvi tutti soprattutto in buona salute ringalluzziti casomai dalle vacanze estive e soprattutto pronti per questo nuovo dipinto questo nuovo tutorial faremo una marina tanto per cambiare e come vedete è un promontorio abbastanza conosciuto anche perché ultimamente è passato un po sia la ribalta in quanto questo è piombino non soltanto che il rigassificatore che vorrebbero mettere non vogliono mettere ma queste sono storie politiche che adesso tralasciamo ma perché qui sopra c'era quella ruota panoramica che qualche giorno fa causa venti forti portissimi è stata un po ma ridotta e quindi avete visto qualche video in cui c'era queste poltroncine girevoli insomma sono state di mente portate via dal vento beh qui c'è il golfo di follonica naturalmente in lontananza molto in lontananza questo è piazza bovio col faro c'era beh adesso non è che voglia fare la topografia precisa del posto ma sono giusto perché molti di voi la conosceranno esserci stati probabilmente non è proprio esattamente così ma insomma è diciamo modellato dal ricordo da alcune esigenze grazie ok beh detto questo passiamo a quello che useremo questa sera e poi alla fine della fiera è sempre la stessa cosa quindi colori acrilici per la nostra tavolotta un pezzo di cartone che ho un po sporto di sopra un pezzo di cartone di cui faremo i nostri impasti un po di colori colori vari barattoli come detto io colori spesso li faccio da me partendo da una base poi con i vari coloranti e cose varie li modifico fino a che trovo il colore che mi interessa i pennelli sono sempre più o meno gli stessi e sintetici velo di bue dietro la di maiale beh ecco i colori che ho messo sulla tavolozza poi li metterò in descrizione sono un celeste cian una puntina di nero un'ocra e naturalmente il bianco prendiamo questo pennello abbastanza largo questo è sintetico e andiamo a iniziare allora vi ho detto ho messo anche un pochino di nero in genere il nero si usa pochissimo per fare questo genere di lavoro però stavolta useremo anche un pochino di nero quindi abbiamo tutti gli elementi per iniziare il nostro lavoro come vedete ho usato un fondo ocra la stessa ocra che stiamo utilizzando per dipingere quindi intanto andiamo a mettere colore in maniera generale poi lo lo rifiniamo un pochino un pochino di più il cielo io dico spesso la parte più alta è quella più scura poi andando verso l'orizzonte si trova la parte più chiara questo sempre in generale naturalmente le varianti le variabili possono essere tantissime per cui non è che è così punto e basta ci sono tantissime possibilità di trovare condizioni diverse per mille motivi non c'è bisogno che adesso chiamo per forza in ballo che so io il tempo un incendio o quello che adesso ci sono tante tante motivazioni per cui non è detto che solo perché in genere si fa così quella sia l'unica cosa spesso si fa così proprio per levarsi dai problemi una volta che si è fatto una cosa generale che funziona bene per tutto a posto però non è detto che poi sia la soluzione sempre migliore quindi se a volte vedete un fondo del mare bianco rosa o verde un altro colore non è detto che sia uno sbaglio può essere proprio così realizzato volutamente non è uno sbaglio forse ci può essere anche lo sbaglio intendiamoci però ecco non sempre è uno sbaglio può un qualcosa fuori dalle regole ora che è acrilico come detto e come sapete l'acrilico c'è la tendenza ad asciugare in maniera molto rapida poi con questo caldo e e quindi noi dobbiamo sfruttare anche questa possibilità che ci offre appunto il caldo vi ho detto all'inizio questa zona è più o meno e qualche giorno fa è stato investito proprio da da un tempo veramente brutto venti porti mareggiate e quindi adesso voglio riprodurre un pochino quella quella atmosfera tutto tempo che veniva dal mare e quindi per questo messo questo nero che si confonde un po' con il blu ma qui c'era ancora bel tempo perché c'era vento forti comunque non c'erano ancora grandi problemi meteorologici però si stava avvicinando per cui ecco questo è il motivo per cui ho messo un po di nero e poi mischiamo al blu a questo colore abbastanza diciamo così incombente con un cielo così si può fare un mare tradizionale bisogna modificarlo un po perché effettivamente c'è un qualcosa di diverso per questo dico sempre le regole sono generali quando poi si parla di arte o qualcosa ci gira intorno e non è che siamo sempre a fare opere d'arte assoluti ci si diverte anche a lavorare per passare il tempo per non pensare ai nostri problemi insomma per lì e quindi con l'acrilico anche se si fa un colore sbagliato si fa presto a rimediare si aspetta qualche minuto che il colore asciughi e si fa presto a modificare il tutto una cosa importante quando dipingete è quella di procurarsi un po di stracci puliti asciutti così che si possa lavorare più rapidamente ok vale per riprendere il discorso che ho iniziato prima sui fondi come detto ho fatto questo fondo abbastanza chiaro in modo da dare anche una certa luminosità al tutto io raramente utilizzo fondi bianchi così come vengono venduti tele cartoncini e cose varie preferisco sempre adeguare un po il fondo al tipo di soggetto che sto rappresentando a volte vedete uso bianco proprio perché si vede meglio il lavoro il disegno sono costretto a usare matite colorate o altre cose non sempre c'è un motivo diciamo di pittorio un motivo pratico di interpretazione per voi ecco che mi guarda se no a volte non si vede bene il disegno non si vede bene nella legge e qui essendo chiaro insomma si riesce abbastanza a capire ora qui sotto vediamo ancora un po di chiaro è una cosa interessante è lavorare anche col pennello asciutto a graffio diciamo così e fa una sorta di sfumatura cosa che non è abbastanza facile semplice fare con con l'acrilico però sfumando col pennello asciutto si riescono ad ottenere delle buone sensazioni diciamo così di luminosità o di sfumatura appena l'asciutto si riescono a fare questi intramezzi diciamo così si comincia a fare intrufolare un po di brutto tempo tra le pieghe di questo cielo che vorrebbe essere ancora estivo ma ha qualche seccatura con le pieghe di turbazione c'è un grumo di qualcosa ancora un po di pennello asciutto ora poi naturalmente si va prosegue con il promontorio che è molto lontano da qui non in maniera assoluta ma insomma ecco che sarebbe poi tutta la parte di un golfo di polonica si allarga in maniera esagerata rispetto al disegno adesso definiamo un po questa zona e poi la ripigliamo un pochino e sfruttiamo proprio la possibilità dell'acrilico di asciugare alla svelta e di lasciare la possibilità di essere ricoperta senza che ci siano grossi problemi di colore che si amalgama si impasta in quanto essendo già asciugato praticamente diamo una seconda mano ecco detto un po in maniera rude questa zona qui adesso la sto colorando ma in realtà poi potrebbe anche rimanere scoperta quanto ci sono edifici insomma non sempre è utile rappresentare perché quando si fanno quadri insomma non sempre bisogna rappresentare tutto tutto quello che c'è si deve si deve si può si può semplificare si può quindi si possono fare delle cose che ci sono non ci sono ci sono state osomai sono state tolte però ci piace rappresentare ricordarmi c'è quindi adesso lascia restare la tavolosa e questa non l'ho fatta vedere ma per adesso ho usato soltanto un pochino di nero e bianco e questo cian blu cian celeste cian insomma è una puntina di ocra prima giusto proprio una sporcata c'è già il fondo quindi ho diluito un po di più per farlo venire in trasparenza e quindi ho quasi evitato l'uso della appunto dell'ocra pennellino di setola di maiale e andiamo un po a rifare questo il disegno più o meno che dobbiamo fare come dicevo una cartina topografica giusto per non perdere i vari tratti eccetera c'era la torretta poi la facciamo un po meglio e qui la scogliera andiamo a rifare una cosa importante più che noi il mare il fondo come non è appunto la lontananza delle montagne per cui ricordare un po la lezione di leonardo la prospettiva aerea e ricordare che insomma le montagne i luoghi molto lontani cominciano a prendere quasi quasi la fisionomia il colore del cielo quindi questa è una cosa abbastanza interessante da non dimenticare che danno al quadro ecco una certa vero somiglianza con la realtà per quanto possa essere un quadro insomma realistico questo è il colore è venuto fuori si vede poco insomma è un colore abbastanza chiaro siamo vicini a da queste parti dalle porte di campiglia marittima si potrebbe addirittura dire che si vedano le colline metallifere ma insomma quindi qui sopra poi decidiamo se farci una costruzione e qui nei tempi andati i tempi il 500 il 600 c'erano le galere costruzione non galere la classica prigione questo era territorio degli appiani ha già parlato diverse volte di questa cosa e quindi adesso è sede è stata sede di scuola sede della polizia urbana insomma ci sono state diverse diverse realtà e adesso è adibita ci fanno delle da qualche parte sono un paio di salette ci fanno delle mostre che poi tende un po il verde però adesso mi serve anche un pochino di colore quella un po di arancio adesso qui andiamo a fare un po la scogliata poi qui è divertente perché ci mettiamo a lavorare un poco con la fantasia con gli spessori con le ombre quindi giochiamo un po un'altra cosa importante che non ho detto ma insomma arriva di scopo decide da che parte arrivano le luci quindi luci ombre c'era quindi facciamo conto della luce venga di qui o di qua sopra e quindi questa parte luminosa e questa parte proprio all'oscuro quindi da tenere in considerazione modo da dare spessore plasticità alle nostre immagini quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di posidonia, ma non c'è molto pesce, diciamo così. A largo, insomma, andando verso Palmaiola, di fronte c'è Palmaiola, questo isolotto dove c'era una volta al faro col guardiano, adesso invece è automatizzato, non c'è più quella poesia di una volta. Come ho detto anche altre volte, insomma, mi spero un po', le cose non è che sono infinite. Ci sono anche stato, ci ho dormito, tanti anni fa, capitammo a fare una battuta di pesca, ma eravamo un po' con tutti i ragazzi, io e altri amici, con una barchetta piccina di quattro metri, insomma. E andammo appunto a Palmaiola a fare questa battuta di pesca, battuta di pesca, e detto così, ma eravamo attrezzati per fare chissà cosa. In realtà avevamo soltanto un vecchio fucile a molla, che ci passavamo un po' per uno, e pinne, pinne degli anni Sessanta, che erano praticamente dei pezzi di legno legati ai piedi, a volte con dei cintolini che si rompevano, quindi si usavano la camera d'aria poi per sistemarli. Eravamo un po' un po' messi così, non proprio benissimo, ma vabbè, quelli erano i tempi, c'era di meglio, e poi i mezzi comunque erano abbastanza modesti. Adesso facciamo una cosa, qui, poi facciamo dopo, se no, non ci torna più bene. Allora, quindi... Ecco fatto, il nostro, ecco... Ora tiriamo questa linea, questo è per il disegno. per non perdere il disegno, perché se no poi ci si allontana troppo da quello che era, insomma, tutta la preparazione. Che poi la preparazione, non so se ve l'ho fatta vedere, è molto semplice, ho fatto un disegno approssimativo, eccolo qui, vediamo se non cade tutto. Eccolo, questo è un disegno, più o meno questo qui, qui c'era anche un altro dietro, un altro qua. Quindi, avevo preparato questi paio, ho già altri disegni, ma insomma, più o meno, sono tutti gli stessi. Questo, forse, è quello che si avvicina più a quello che poi sto facendo adesso, grosso modo. Vabbè, niente di che, ma non è che per fare uno schizzo c'è bisogno di essere molto precisi, dettagliati. Quello che ci interessa, appunto, è l'idea, il ricordo di quello che vogliamo fare. Allora, guarda, 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 guarda. E qui, come vedete, ho fatto delle linee, come a seguire un po' l'evolverti delle onde che arrivano verso c'erla. Allora, guarda, 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 guarda a questi giorni sto preparando un po di di cornici perché sto preparando un'altra mostra e quindi ho bisogno di un po di cornici perché ho un po di lavoro questo è giallo e metto un pochino di giallo sulla tavolozza per fare un po di mare verdeggiante quindi un po di ecco e quindi sono due tre giorni che faccio cornici in continuazione una cosa abbastanza divertente però viene poi uno si sta quindi con un po di giallo e naturalmente po di celeste viene fuori questo verdolino si può naturalmente calibrare col bianco eventualmente e da questa sensazione di variazione di fondale ognuno lo interpreta un po come come vuole però abbiamo colore a tocchi no strisciando pennello quella ora si sporca un pochino la base diciamo così ok non vi preoccupate perché ci serve poi per la base dopo questo è una specie di fondo e questo ci aiuta poi quando facciamo la parte un po più arriva un pochino più disegnata un pochino più dipinta diciamo avendoci una base ci può aiutare in maniera concreta possiamo utilizzare anche colore diverso considerando che qui siamo verso riva quindi ci sarà spiaggia ci sarà sabbia che gli aiuto ma decidete voi cosa volete rappresentare e intanto ecco preparatelo per il colore successivo e grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E qui il lavoro è abbastanza semplice nel senso che ci vuole pazienza a mettersi via a modellare le pietre, cercare gli anfratti, divertirsi a modellare un po' questa scogliera, decidere se fare sassi grandi, sassi piccoli, quindi ci sono, questo poi è il bello della pittura, no? Immaginarsi l'ambiente, immaginarsi le cose che stiamo dipingendo, riviverle in qualche maniera e poi riprodurla. Questa è una cosa che a me piace, in un certo senso è come vivere le cose un po' a due volte, no? Non è come leggere un libro, si rivivono sensazioni, già qui ci sono stato quella volta, casomani, ci sono cascato sopra, mi sono mezzo rotto in piedi, oppure, comunque, una volta, madonna, fece un lancio, ho presi una boga. Ora qualche giorno fa ho finito di sistemare una barchetta per degli amici che insomma avevano fermo da tanti anni e quindi insomma a un certo punto gli ho presa questa insana voglia di rimettere mano alla barca e però non avevano grandi capacità, mi hanno chiesto una mano e poi siccome è una cosa che mi piace, mettere mano alle cose, sistemarle eccetera, sono sempre di quelli che non buttano via niente ma sistemano per quanto sia possibile e quindi insomma abbiamo sistemato questa barca ed è stata portata anche a mare, perché dopo quasi vent'anni che questa barca era in un garage buttata lì, meno male era al chiuso, però per vent'anni è stata sopra un carrello in attesa di momenti migliori che poi sono arrivati. Ora l'hanno già messo in mare, l'hanno provata, l'hanno varata, diciamo così, a baratte proprio sabato, oggi è domenica e oggi domenica, a parte oggi non era poi una giornata bellissima, però hanno fatto anche qualche uscita, penso che stamattina alle 4, alle 4 di mattina, la grande voglia che avevano di andare a fermare, sono usciti con l'intenzione di andare a pescare, non so poi se l'hanno fatto veramente, perché non ci siamo sentiti, però insomma è stato divertente vedere l'entusiasmo che avevano, i ragazzi, i ragazzi per morire di, insomma ragazzi un po' cresciuti qua insomma. Ecco, le parche fanno felici due volte, dicevano, quando la compri e quando la vendi, ma io li fanno anche quando si fa manutenzione. C'era un grande architetto navale, Schardelli, era riestino, se non mi sbaglio, non l'ho mai conosciuto tra l'altro, mi ha sentito parlare, ho portato sui barchi, ne ho visti tanti, qualcuno l'ho anche riparata, però, e lui amava dire, io odio il mare, per uno che costruisce barche, cioè odio il mare, ma amo le barche, e quindi le sue barche sono sempre state oggetto di studio, di ammirazione, perché era veramente interessante come architetto navale, e poi anche come filosofia, poi in realtà non era vero che odiasse il mare, ma insomma è una battuta per estremizzare, che a lui interessava del mare, la parte un po' più asciutta, però insomma, e anche a me, onestamente, piace anche mettere mano alle barche, proprio per sistemarle, modificarle eventualmente, soprattutto quando c'è da fare qualche, proprio qualche modifica che migliora, almeno si spera, ora, ora viene a fare un po' di, di scuro, e praticamente poi il lavoro è tutto qui, nella costruzione, pezzetto per pezzetto, senza avere la fretta di finire, perché poi una volta che è finito il quadro, ne appare un altro, e quindi è bene dedicarsi con tranquillità al nostro lavoro, così ci divertiamo, lo apprezziamo, lo modifichiamo, ci immaginiamo le storie, ok, 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 queste rocce nel mare, non ci interessa che siano definite, sono delle semplici macchie, che però ci aiutano, perché poi ci daranno la possibilità di fare, la trasparenza dell'acqua, e quindi farle quasi riaffiorare, capito, questo è il motivo per cui si imbastiscono, e basta senza dargli nessun tipo di connotazione precisa, poi eventualmente questo lo facciamo dopo, se ci interessa definire maggiormente, però quello che ci interessa adesso è dargli una presenza, e poi eventualmente la definiamo un po' di più, però quello che ci interessa è proprio che ci sia, ecco. ho cominciato a fare una piccola serie, cose che insomma io faccio sempre, sempre in piccole serie, mai cose molto numerose, per cui una piccola serie, dicevo di pescherecci, ho preso la voglia di fare queste barche da pesca, e quindi ora, le ho preparate già diverse, poi a caso mai ve le farò vedere, o a caso mai, se è il caso, le faremo anche una insieme, non so, intanto le ho preparate un po', ho fatto un sacco di disegni, proprio perché mi ha preso la voglia di fare questi strumenti antichi e moderni, tutto sommato, perché mi ha preso la voglia proprio ora, mentre sto sistemando questa barca, no, questa barchetta è poi una barca di cinque metri, quindi niente di straordinario, la barchina che in due si prende e si alza, insomma, quindi non è certo una cosa impegnativa, però ecco, la cosa simpatica che mi ha fatto piacere fare, perché mi ha risvegliato un po' vecchi ricordi di quando si facevano le traversate, tra virgolette traversate, si partiva da Sarigoli, che ai tempi era un posto molto molto piccolo, non c'era niente esattamente, e da lì si partiva, abitavamo proprio a due passi dal mare, ma veramente due passi, dalla finestra di camera si tiravano in acqua, alle boie di ormeggio, per cui eravamo proprio vicini vicini, e per noi la palestra è stata la spiaggia, il mare, queste isolette di fronte a noi, quindi la cerbo, il parmaiola, l'isola d'elba, aveva una barchetta, ai tempi non c'era bisogno nemmeno di patenti, di niente, quindi eravamo proprio dei disgraziati, si partiva con un motoretto fuori bordo di 4 cavalli, era veramente una stupidaggine, di motore, proprio piccino, inaffidabile, come potevano essere i motori degli anni 60, due tempi naturalmente, e con questi motoretti poi, siccome un paio di volte siamo rimasti col motore in panne, allora in un certo modo detto ragazzi, qui durano a arremare da palmaiola, da cervoli fino a salivoli, quindi dobbiamo far qualcosa, ai tempi di barca a vela non è che eravamo, non ci avevamo mai avuto nessun amico, nessun parente, che ci avesse la mania, la voglia, la passione della barca a vela, e quindi non c'è mai presa questa voglia di usare la vela, eravamo più per arrivare a destinazione il prima possibile, fare l'immersione, divertirsi, a prendere qualche pesce, qualche polpo, qualche cosa del genere, poi ritornare a casa, e insomma dicevo, per fare la vela, che un paio di volte siamo rimasti in panne in questo motoretto, e allora furbamente ci siamo detti ragazzi, non sarebbe meglio procurarsene due di motori, invece di uno, due è meglio, poi ci hanno fatto anche la pubblicità, però insomma, e quindi tra i vari amici trovammo un altro che aveva un altro motoretto fuori bordo, e quindi con due motori insieme siamo andati un po' più tranquilli, e in effetti poi, da quando avevamo due motori, non ci si è mai più bastato nessuno, quindi a volte era proprio la condizione di scarugna pura, quello di averci un motore rotto, e quindi dicevo, sistemando questa barchina, mi ripresa la voglia, ricordi, poi questi ragazzi, hanno iniziato a ricordare anche loro, quella volta che sono andati qui, quella volta che sono andati là, il palamito, quella volta che ci fu quella retata, e così, e quindi vecchi ricordi, mi ripresa la voglia, voglio fare un po' di, di parche da pesca, avevo iniziato con un mercantile, poi tornato al mercantile, qualcosa che è un po' distante dalla mia idea di mare, e allora, ecco qua, e allora niente, ho deciso che faccio un po' di pescherecce, pescherecce, c'è una cosa che mi, mi rappresenta un po' di più, ecco, ecco fatto, ora qui dovrebbe essere anche asciugato, quindi siamo pronti per la seconda fase, una puntina di cialde, e andiamo a fare, non ci bisogna di fare pennellate lunghe, come detto, ma pennellate abbastanza, tocchete, e qui la sovrapposizione di colori, cercare un po' l'andamento del mare, cercare un po' questa sua, se vi ricordate all'inizio avevo fatto queste linee, ho fatto la linea qui, la linea qui, una che andava su, un'altra un po' più su, un'altra che prendeva, non ci ho bisogno di mettere tanto spessore di colore, però dagli il movimento, quello è importante, quei colori che avevamo messo all'inizio, vi ricordate, quel giallo mischiato un po' di celeste, fare un po' di verde, ecco, non va coperto completamente, va lasciato in trasparenza, ok, se lo coprite è finito il gioco, quindi, bisogna sempre lasciargli una certa visibilità, grazie. Grazie. Cerchiamo di lavorare sempre con poco colore, colore del pennello quasi asciutto, per non fare la pennellata troppo liscia, troppo leccata, eh? ok. perfetto. O che sequestro? Dietuciamo di lavorare Exactly. Dove se garante, sono due丈井, tutti popolore. Grazie a tutti. Qui, come si era detto, ci sono queste rocce che si devono vedere, che ci sono, però non devono essere definiti in maniera particolare. E questo colore che abbiamo messo all'inizio, questa sporcata di colore, ci aiuta perché facendo il mare a tocchetti, a piccoli colpetti, anche se dovessimo lasciare qualche cosa diciamo di scoperto, non ci crea problemi perché c'è appunto questo fondo che ci dà appunto una mano. Io uso un po' di arancio per stimolare, diciamo così altri sassi, altri scogli sotto l'acqua. Grazie. 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 Grazie a voi. Grazie a noi quel colore sempre questa ocra iniziale, più un po' di arancia avete visto? Grazie. Grazie. Ecco, adesso andiamo a rifare, se avete fatto caso il nostro alleggerimento iniziale, dandoci questo fondo indefinito, ci aiuta perché se lasciamo delle parti non danno fastidio, anzi danno proprio la sensazione che ci sia sotto qualcosa, c'è movimento, c'è acqua che spumeggia, quindi quando si fanno queste cose pensare anche a preparare il dipinto, a volte può sembrare che si facciano mille cose inutili, perché uno si chiede, ma perché perdi tempo a fare questa cosa se poi la cancelli, sembra che sia cancellata o sia una cosa inutile, in realtà c'è un motivo abbastanza preciso, quindi… vediamo se riesco a metterlo tutto intero… bene, siamo quasi arrivati alla fine di questo facile tutorial, qualche tocchetto quella di di colore, giusto per dare qualche punto di luce maggiore… ecco… ecco… è diventato un po' duro, e allora lascia delle tracce troppo evidenti… beh comunque insomma possiamo dire che il lavoro è concluso, ora un lavoretto del genere avrebbe bisogno di una piccola cornice e non è detto che le tante che faccio non le prepariamo anche per questo quadretto, questa è la nostra tavolozza ma vedete i colori usati sono veramente pochissimi, cioè giallo, giallo limone, bianco, celeste cianne, arancio, ocra, questa è una puntina di nero proprio un pochino per fare questo pezzettino qui e praticamente questi sono i colori che sono stati utilizzati, con le varie miscele abbiamo ottenuto queste variazioni tonali, bene a questo punto faccio il solito appello, iscrivetevi, state in salute, se avete qualche domanda fatela tranquillamente, io in genere rispondo a tutti, a volte qualcuno mi scappa purtroppo ne arrivano tanti e a volte arrivano tutti insieme e quindi qualcuno può essere che mi sfugge, perdonate, però insomma in genere nelle risposte che do troverete anche la vostra risposta più o meno, a meno che non sia proprio precisa, beh detto questo cosa dirvi di più, divertitevi, state in salute e noi ci risentiamo e ci rivediamo casomai la prossima volta. Grazie. 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 Grazie.